Mi spiace che non ho visto Gianluca Gobbio ma credo sia bloccato su un set oggi perché Gianluca come altri autori saranno in Glengheri, sono nel Don Quixote saranno nello spettacolo di Filippo Dini con Asia Argento in un testo straordinario sulla prima donna che ho scoperto che ha fotografato il DNA, per cui è parte di quella compagnia che lentamente si chiara in Lisio, piccola e grande io non vorrei parlare troppo di Don Quixote perché è un progetto enorme voglio solo ringraziare il Teatro Stabile di Trieste il Trieste che si chiama oggi e il Teatro Nazionale di Firenze che sono i nostri coproduttori e lascio la parola a Chiara che sarà moltissime dulcine, ne farà 12, 13, non so quanto Allora, buongiorno a tutti, ben trovati vado velocissima, tanto non ho molto da dire in realtà sono 5 anni che non faccio più l'attrice perché grazie a Dio ho cambiato lavoro faccio la regista allora, l'ultima volta che ho lavorato con Luca in palcoscenico, l'ho diretto io per lo spettacolo che è andato in scena all'altrano qui al Teatro Eliseo e questa volta lui dirigerà me mi ero ripromessa di tornare a far l'attrice solo per spettacoli estremi e io credo che il nostro Don Quixote sarà molto estremo vi ringrazio grazie a tutti